Ehi, toc toc, c'è nessuno? Sono Minnie, insieme a miei amici. Come dici? Vuoi venire a trovarci? Ma ci trovi tutti da Di Leonforte Giocattoli. Di Leonforte Giocattoli è un mondo pieno di giochi divertenti. Barbie, Hello Kitty, Spider-Man e molti altri. Tutto quello che desideri lo trovi solo da Di Leonforte Giocattoli. In via Salvatore Larosa 12, annoto. Di Leonforte Giocattoli, il tuo divertimento è la nostra parola d'ordine. Di Leonforte Giocattoli, il tuo divertimento è la nostra parola d'ordine.